Procede molto bene, siamo contenti come lavoriamo, noi ci siamo, non moliamo. In Serbia facevamo più o meno spesso, andavamo sulla montagna due o tre settimane, in Svizzera invece facevamo tutto il ritiro a Lugano, poi forse una settimana andavamo sulla montagna ma non facevamo solito ritiro, facevamo più a fare team spirit, quindi è un po' diverso rispetto all'anno scorso. L'anno scorso ho iniziato preparazioni già in giugno, quindi ho fatto preparazioni, ho fatto prime gare di campionato in Svizzera e poi sono arrivato qui. Si vedeva che mi mancava fare preparazioni con la squadra, ma comunque alla fine sono riuscito a riprenderci il ritmo. Mi aspetto molto di più, penso che abbiamo una squadra forte e anche io personalmente devo a questa squadra, a questa società molto.